e bentornati e benvenuti ragazzi in questo nuovo gameplay come sempre prima di iniziare il gameplay vi vado a ricordare che giù in descrizione se vi va potete acquistare questi e tanti altri giochi scontati e in descrizione vi ricordo anche i miei canali social come ad esempio TikTok e tanto altro vi ricordo anche se siete nuovi nel canale e vi va di supportarmi con un bel like, una bella iscrizione e ovviamente una bella condivisione e ne sarei contento detto questo ringrazio ovviamente tantissimo i produttori del gioco per avermi concesso questa key di Iron Doris Simulator praticamente è un gioco dei parrucchieri ovviamente saluto come sempre moderatori e nuovi iscritti detto questo facciamo ovviamente un attimo di audio che abbassiamo un po' leggermente tutto ok salviamo, non ha salvato niente, non ha salvato niente probabilmente ho fatto un piccolo taglio salviamo, ok adesso usciamo, break, setting, setting gameplay, ah ok non mi ha messo la lingua italiano ok salviamo, ok dietro come si va indietro, ok si va così, ok ma me l'ha salvato almeno audio si for screen, gameplay italiano, salva ok no to break, dead, bow, campagne, new game sei sicuro di voler cominciare questa avventura? si mezzo inglese e mezzo italiano non è male come gioco ragazzi, l'ho spulciato un po' dietro le quinte e devo dire ragazzi che secondo me hey there, I hope you're ready to learn ve lo dico dopo che secondo me merita, quindi ascoltiamo un attimo i dialoghi io purtroppo l'inglese non lo so ma quanto pare è l'ultima novità che fanno tutti i giochi in inglese però comunque ascoltiamo i dialoghi ok, non ho capito niente si ok 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 non ho capito un gran che però va bene ok benvenuti in questo Hounder Simulator ma come vai sto gioco fa i passi? vabbè Exit io devo capire se si può qua setting audio ok abbassiamo ancora un po' perchè eh troppo ok salvato buongiorno signora come sta? come sta? benvenuta si accomodi qui che le faccio lavare subito i capelli è un gioco che secondo me può piacere moltissimo alle ragazze ragazzi eh secondo me anche i maschietti ovviamente eh perchè no allora premiamo enter non ho capito che era peggio per i capelli la via 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 adesso dobbiamo prendere la spazzola ok fare i belli i capelli ok facciamo belli i capelli ah con il tasto sinistro del mouse ok laviamo i capelli della signorina ok vadi vadi signorina se vi piace il gioco ragazzi spoliciate mi raccomando anche se il mio pc fa un po' di fatica a portarci a essere giocato infatti penso di fare una serie solo su youtube perché questo gioco è davantemente pesante anche se devo dire che è fatto con unity però vabbè insomma dettagli comunque ovviamente se mi raccomando ragazzi con i pollicioni con i pollicioni perché io vi vedo che voi mettete i like ragazzi li vedo li vedo non avete paura di spoliciare comunque un video extra oltre al classico che avete visto oggi pomeriggio ne uscirà anche questo anche se non l'ho detto nel video perché è un gioco inaspettato che infatti non pensavo che i produttori mi avessero passato quello questo però ok facciamo la pulizia dei capelli dello shampoo che di solito a me quando che vado a tagliare i capelli non mi fanno tutte queste cose ma va bene dettagli abbiamo finito qui si exti ok facciamo accomodare la signorina qui sulla sedia vai ok peccato che non mi fa girare sedia però penso che sia abbastanza normale ok enter cosa devo fare qui ok dobbiamo asciugare i capelli va bene asciughiamo i capelli della signorina ok vi faccio sentire anche i suoni ragazzi ok abbiamo quasi finito comunque come potete vedere anche in altro che c'è scritto thanks vi dice anche quanto manca per finire un lavoro diciamo che questa è una cosa bella per me perché sennò veramente diventa complicato ok vediamo 98% 99% 100% ok fatto poi dobbiamo dipingere la tipa di colore grigio ok va exti prendiamo il pennellito grigio già selezionato perfetto vabbè ovviamente il tutorial adesso qui perché non ecco vedete mi passa la freccia con il tasto destro del mouse voi cliccate man mano diventa grigia ma era così bella in quel colore lì ma si è fatta grigia vabbè non voglio sapere perché l'ha fatto e anche qui vi dice quanto manca alla fine tipo io adesso sono 31% però è carino carino ragazzi mi piace sapete che piace variare i contenuti ragazzi eh non sono uno che porta sempre lo stesso gioco perché va bene a me piace portare un po' tutto è giusto anche cambiare un po' no è giusto cambiare insomma ovviamente ok facciamo questa parte vediamo se va giù eh signorino mi scusi sto fermo con la testa grazie eh pare che il gioco mi senta però in realtà non mi sente perché comunque non è multiplayer anche se forse multiplayer tipo sarebbe stato figo però non penso cioè alla fine da un parrucchiere ci vai da solo non è che non è che c'è un altro tipo è realisticissimo ok 60% eh scusi eh ok mi scusi signorina se ne faccio un po' male ma io sono abituato con con altri giochi giustamente allora vai perfetto ok voglio vedere se riusciamo a finire tutto oggi il tutorial penso proprio di sì penso di sì però comunque non sapevo che il pennelletto facesse rumore però boh magari è una cosa mia che è una cosa da gioco che hanno voluto implementare perché giustamente se no appare brutto no un pennelletto senza casino quindi mi raccomando ragazzi spoliciate spoliciate ah ok vi dice anche ah figo figo che vi dice le cose di là come stanno la testa praticamente non so se voi la vedete praticamente questa qua no vedete raga eccoci cliccate alzate figo molto reale ragazzi molto 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 reale devo dire complimenti ai sviluppatori che hanno fatto un bel giochino non pensavo però secondo me se lo meritano ah man mano che io alzo figo peccato che per appunto il mio pc non ce la faccia moltissimo però sono contento ragazzi dai piuttosto di senza video è meglio avere secondo video no ok perfetto facciamo anche qui in atto ottimo ah figo non lo sapevo sta cosa vedi vedi quante cose si imparano my friend this hashtag my friend this anche qua non ci facciamo mai mancare gli hashtag ragazzi dopo io mi metto comodo con la sedia ma penso che ormai l'ha sentito la sedia che fa casino ma cercherò di comprarmi anche un'altra sedia vediamo se riesco ok adesso devo fare di qua che scusi signorina eh se ne faccio i capelli poi gli do una una spolverata va bene hashtag spolverata eh ma non si dice così si dice con la eh ba ba shimbu ma shimbu salutiamo anche ma shimbu che ci seguo sempre allora adesso devo andare qua sopra che mi manca queste due ok vediamo se mi si alza i capelli la signorina grazie signorina eh lei molto 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 hashtag molto 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 ok mi manca un pezzettino qui si vai ok eh ci devo prendere una mano ragazzi per me è un gioco nuovo quindi non lo so allora mi manca un pezzettino qua sopra ok posso la riga in mezzo sicuro ok ma dove la sto fa vabbè ok mi sta riazzando ok perfetto vale grazie signorina eh grazie grazie signorina poi li farò lo sconto va bene li farò lo sconto comitiva per la simpatia va bene eh perché mi cancella ogni volta che passo sopra ah no non mi sta cancellando vedi mi sta solo dicendo dove passare ok dammi questo pezzo qua signor signor cosino ah no perché ho selezionato quello lì vabbè ormai lo devo fare e me la sto fatica va bene ok dammi questo ok giù perfetto grazie signorina eh eh ext no ext ho finito devo fare qualcosa devo fare qualcosa no mi dice sempre di tornare qua perché allora mi dice esci sei tutto fatto vabbè hashtag tutto fatto devo riprendere il pennello boh madò ecco questa cosa la devono sistemare un pochetto ragazzi eh la devono un po sistemare questa cosa che a me non mi garba molto il fatto che devo riprendere il tutto però va bene dai adesso devo prendere la parte di co signorina mi scusi e se ne faccio un po' male mi scusi mi scusi non me ne vogliate donne so che ci sono anche ragazze che guardano i miei video quindi non me ne volate ragazzi se sbaglio qualcosa perché d'altronde è la mia prima volta quindi un po' di buon animo non fate ragazze e ragazzi ovviamente ok prendiamo anche sta parte poi credo che abbiamo finito no? perché siamo all'85% credo che non manca moltissimo eccolo qua finito ecco adesso devo rilavarti signorina venga 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 signorina venghino ok mi fa rilavare ok devo riusare quello di prima eccolo qua ok vai lava 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 ma perché è cambiato colore? boh boh non lo so non lo so intanto finito qui perfetto finito perfetto ah si riaccomodi qui signorina che non abbiamo finito eh si riaccomodi qui che non abbiamo finito cosa devo fare? cosa devo fare? dry che cos'è sto dry? ah phone devo usare il phone ok mi dica se è troppo caldo eh me lo dica me lo dica me lo dica me lo dica eh già hashtag eh già allora io ancora un po' di tempo ce l'ho però purtroppo lo sto quasi finendo se vi piace l'idea di questa serie ragazzi fatemelo sapere con tanti pollicioni su andiamo giusto qui di asciugare i capelli alla signorina alla signorina signorina quanto è bella la signorina mi dissocio ok ragazzi ok perfetto ragazzi allora per il momento direi che mi fermo qua cosa devo fare poi poi vediamo se nella successiva al gameplay facciamo la piastra che le signorine piacciono fare le piastre e i capelli una la facciamo già adesso anzi quasi quasi la facciamo insieme dai perché visto che ancora un po' di tempo ce l'ho quindi facciamolo ancora insieme anche se questo gameplay durerà un po' di più così almeno non state senza gameplay fino la sera ok dammi questo signorino scusi eh le alzo il cosino le alzo i cosini ma voi non eh eh mi dissocio allora eh ok vai giù di qua ok vai giù di là vadi vadi ok anche qua mi piacerebbe un giorno fare il parrucchiere però mi sa che ci vuole tipo dell'aura dei corsi no? se voi lo sapete ovviamente fatemelo sapere ragazzi eh commentate che i commenti sono sempre bene asce te asce te legali te ma ho finito signorina eh ho finito credo credo io ho finito ah no mi manca questo vedi ok mi manca sta parte e poi concludiamo il gameplay esatto vi piace il nuovo taglio signorina? vi piace? vi piace? si numero uno perfetto bene ragazzi allora per il momento mi fermo qui cos'è sta roba che mi fa andare qua? ah il tablet credo posso comprare anche altra roba figo ok posso dare un nome vediamo cosa ho fatto prima di concludere poi concludiamo perché veramente il tempo vola io potrei fare anche 20 ore di gameplay però non è un problema vediamo un po' come cosa ci dice qui l'honding ok ragazzi dai allora facciamo così che per il momento ci fermiamo qui voi come sempre se avete idee, consigli, dubbi non esitate a commentare intanto io provo a cliccare qui se io non ci voglio di sentirti che c'è la sigla ok va bene ragazzi niente commentate iscrivetevi ciao a tutti e alla prossima raga intanto qui possiamo dare un nome mi sa il nostro negozio va bene vi lascio con la sigla ragazzi e ciao a tutti ciao ciao